ciao cari amici riportici e buona festa dei 60 giorni a tutti sono qui a riposo perché dopo quasi due giorni che ho ricevuto una seconda multa sempre per lo stesso limite di velocità è sempre nello stesso tratto ora sono arrivati gli ultimi peluche a a a piccola parentesi un caro saluto anche dal mio orsetto del cuore preferito a un ricordo della città dove io crebbi tesserato a c a dolzano la comprai nel quartiere dove dopo io frequentai iniziai a frequentare carratrezzi in questo negozio la cosa che mi colpì fu carratrezzi con la fiat 600 dovrei caricarlo però non contateci perché ci sono alcune difficoltà da superare o tenendolo fuori dal letto mi raccomando ciao